Buongiorno a tutti, sì il mio compito di oggi è di dare dei flash sull'associazione trombosi e cancro come in parte hanno già detto i miei colleghi e toccheremo alcuni punti fondamentali sotto questo aspetto. Questo qua lo conoscete? Questo signore qua? Ne parlano sempre tutti, si comincia sempre da lui. Qui, Armand Trousseau nel 1865 aveva già evidenziato come era stretta la relazione tra neoplasie e trombosi nel senso che il paziente affetto da cancro è molto più predisposto a sviluppare trombosi rispetto a una persona che non ha il cancro. Questo è qualche dato, diciamo così che se prendiamo tutti i casi di trombosismo venoso circa il 20% riguarda i pazienti con neoplasia maligna. Dall'altra parte, a proverso della medaglia, di tutti i pazienti con neoplasia maligna circa il 15% ha un episodio di trombosismo venoso sintomatico e circa il 50% ha un episodio di trombosismo venoso non sintomatico. Ci sono addirittura dei lavori atrospettivi, casistiche autoptiche che evidenziano che il 90% ha una trombosi venosa. Quindi il problema è molto, molto importante. E questo è un dato altrettanto importante, l'ultimo punto, cioè che l'embolia polmonare rappresenta la seconda causa di morte nei pazienti oncologici. Quindi vi immaginate com'è rilevante questo problema. Questo è uno studio prospettico del 92 pubblicato su New England in cui i pazienti con trombosi venosa venivano seguiti per due anni di follow-up. E si è visto che un paziente che aveva una trombosi venosa e altri fattori di rischio, quindi una trombosi venosa secondaria, in questi pazienti l'1,9% sviluppava una neoplasia in questi due anni di follow-up. Se però si vedevano, si tenevano presenti i pazienti che hanno una trombosi venosa idiopatica, cioè senza altri fattori di rischio, vedete come aumenta la percentuale, andiamo al 7%. E addirittura una trombosi venosa idiopatica ricorrente, arriviamo al 17%. Come hanno detto prima anche i miei colleghi, il rischio di trombosi, di tromboembolismo venoso varia con il tipo di tumore, lo stadio, se sta facendo una chemioterapia o un'ormonoterapia in presenza di procedure chirurgiche e poi altri fattori di rischio come le immobilità precedenti in episodi di tromboembolismo venoso e la presenza di un cateteronoso centrale. Questo per quanto riguarda il tipo di neoplasia non sono dati assoluti perché tenete presente che le casistiche sono molto diverse da studio a studio. Questo qua è un esempio in cui i tumori più frequentemente coinvolti sono quelli dell'ovaio, il sistema nervoso centrale, il pancreas e poi via via anche gli altri tipi di tumori. Per quanto riguarda invece il tumore della mammella che è molto frequente, anche qui vedete che ci sono delle percentuali molto diverse perché dipendono dalle casistiche. Ad esempio se voi vedete il primo e l'ultimo studio, questo riporta nello stadio quarto, quindi in pazienti metastatiche, un 17%, questo riporta un 8-8%. Invece in stadio secondo terzo, quindi una neoplasia che è stata operata, le percentuali sono ancora al 5-7%, questi come dati indicativi. Per quanto riguarda invece il tumore della mammella avanzato, un trattamento ormonoterapico, volevo sottolineare questo aspetto, cioè questo è uno studio randomizzato in prima linea metastatica, pubblicato nel 2000, in cui vedete come il tamoxifene che è un antiestrogeno, ha molte più incidenze di trombombolismo venoso rispetto all'anastrozol che è un inibitore dell'aromatasi. Quindi quando una paziente fa il tamoxifene bisogna sempre tenere presente che ha un aumento rischio, ha un aumentato rischio di trombosi venoso profonda. Allo stesso modo invece nel tumore della mammella operato, anche qui hanno fatto uno studio tamoxifene versus anastrozolo e anche nel tumore operato, vedete, focalizzate l'attenzione su questa riga qua, non si vede molto bene, c'è un 3,5% per il tamoxifene e un 2,1% per l'anastrozolo. Quindi anche qui la differenza è statisticamente significativa. Quindi anche quando una paziente non ha più il tumore del seno, sta facendo una terapia adiovante con tamoxifene, è a maggior rischio di trombosi venoso profonda, a prescindere dalla presenza appunto del tumore. Questi sono altri dati in varie neoplasie, non è che dovete vedere tutte le percentuali, però indicativamente comunque sono sempre percentuali di una certa rilevanza. Ad esempio qua nel tumore del pancreas c'è un 28% e in effetti il tumore del pancreas anche nella pratica clinica è purtroppo spesso associato a questa problematica. Per quanto invece riguarda il discorso dell'intervento chirurgico, vedete come qua ci sono riportati alcuni studi, nei pazienti oncologici sottoposti a chirurgia in assenza di profilassi, i pazienti oncologici sono molto più a rischio di trombosi venose a parità di intervento dei pazienti non oncologici. Allo stesso modo l'embolia polmonare post-chirurgica fatale è nei pazienti oncologici molto più, ha una incidenza molto maggiore rispetto ai pazienti non oncologici e la differenza, vedete qua, è statisticamente significativa. Questo è uno studio pubblicato nel 1992. Questo invece è uno studio del 2000 che ha evidenziato che a parità di altri fattori di rischio, vedete come le curve di sopravvivenza sono diverse, cioè un paziente che ha un cancro senza trombosi venosa profonda sopravvive di più di un paziente che ha una trombosi venosa profonda. Quindi anche questo vi fa capire come c'è un impatto anche sulla sopravvivenza di questa problematica. A questo punto cosa fare? Cioè nel senso hanno provato a vedere un paziente che si presenta in ospedale o dal medico curante per una trombosi venosa profonda. Quali esami bisogna fare? Bisogna fare tutta una serie di batterie di esami, esami del sangue, lastre, tac, serve a qualcosa o non serve? E sulle ultime diapositive volevo affrontare un attimo questo argomento che mi sembra anche di interesse pratico. Ci sono innanzitutto dei studi non randomizzati, cioè erano studi in cui i pazienti che avevano la trombosi venivano sottoposti diciamo a esami di routine tipo esami del sangue, lastre del torace, cose molto semplici. Gli stessi pazienti poi venivano sottoposti a esami più estensivi. Ad esempio vedete in questo studio nel 1996 aggiungevano agli esami di routine anche l'attacca addome e pelvi e i marcatori tumorali. Questo studio invece aggiungeva l'ecodome, l'attacca e la gastroscopia. In quest'ultimo aggiungeva l'attacca addome e i marker tumorali. Allora, cosa si è visto? Si è visto che in effetti aggiungendo uno screening più estensivo agli esami di routine aumenta la percentuale di, diciamo così, di evidenza di neumlasia. Però questo qua bisogna tenere presente che non sono studi randomizzati e poi questo aspetto si traduce poi in un aumento della sopravvivenza e in una riduzione della mortalità. Diciamo che l'unico studio che fino adesso ha tentato di risolvere questo problema è uno studio SOMIT condotto anche dalla dottoressa Falanga che oggi è presente. È uno studio su circa 200 pazienti italiano in cui metà dei pazienti venivano sottoposti a uno screening estensivo e precisamente a un'ecografia addome e pelvi, l'attacca, esami endoscopici, il sangue occulti, i marcatori tumorali, la mammografia per testa nell'idonia, l'ecografia, il PSA negli uomini e metà dei pazienti venivano sottoposti, diciamo, a uno screening rutinario. Cosa si è visto? Si è visto che, diciamo, i tumori scoperti con uno screening estensivo sono circa il 13%, quelli invece del gruppo di controllo sono il 9-8%, quindi un pochettino di meno. Poi nel gruppo estensivo, un per cento l'hanno scoperto durante il follow-up. L'altra cosa rilevante è che i tumori scoperti con uno screening estensivo erano in un stadio più precoce rispetto ai tumori scoperti con uno screening, diciamo così, di routine. Il follow-up a due anni è evidenziato che la mortalità correlata al cancro è circa il 2% per uno screening estensivo e un 3-9% di uno screening rutinario. Quindi, in realtà, non è che ci siano delle grosse differenze di mortalità relata al cancro, però dovete tenere presente che i numeri comunque sono piccolini, quindi è possibile che con uno studio più ampio si possano venire fuori delle differenze. In attesa comunque di studi più ampi, le linee guida dell'Associazione Italiana dell'Oncologia Medica, dell'IUM, suggerisce come screening di routine in un paziente che ha una trombosi venosa profonda, ovviamente l'anamisi, l'esamo obiettivo, il sangue occulto nelle feci, la lastra del torace, la visita urologica nell'uomo e la visita ginecologica nella donna. Se però rimane il forte sospetto di una bioplasia, ad esempio un paziente giovane che non ha altri fattori di rischio per trombosi, allora suggeriscono anche l'esecuzione di una TAP, gli esami endoscopici e i marcatori tumori. In conclusione, i pazienti oncologici presentano un elevato rischio di sviluppare aumenti trombembolici che contribuiscono significativamente alla mortalità e alla morbidità. Non è ancora stabilito qual è l'impatto sulla prognosi della malattia di uno screening estensivo per la diagnosi di cancro in tutti i pazienti che si presentano con un primo visore di trombosi nervosa idiopatica. Una particolare attenzione a queste problematiche e l'eseruzione di ampi studi prospettici e randomizzati potrà in futuro rinverare la qualità e la durata di vita di questi pazienti. Grazie. 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 Grazie a tutti